Siamo a buon punto, stiamo realizzando ora i pezzi della bandiera che sono sul pianale del carro e poi bisogna finire di colorare la testa, la figura, il dietro è tutto abbastanza già montato e funzionante sicché diciamo che il carro è abbastanza avanti via nei tempi per la consegna della fine del mese. Il tema riguarda quelli che sono gli afroamericani all'interno del proprio paese nel senso che c'è questa grande figura, questa figura di questa signora di colore che praticamente è imprigionata a quella che è la propria bandiera, la bandiera americana. A un certo punto lei si divincolerà e riuscirà a liberarsi da queste catene e a quel punto lì lo sfondo da bandiera americana diventerà un cielo azzurro pieno di farfalle gialle, il segno di libertà. Grazie a tutti! Grazie a tutti.